Il quartetto della provincia di Lucca giunge sul luogo della cerimonia. Si procede ora alla cerimonia di Annaus a bandiera. Si invitano tutti i presenti al canto dell'inno nazionale, eseguito dal gruppo vocale e dal quartetto di clarineti del liceo artistico musicale Passaglia di Lucca. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.